Qualche fiocco di neve se visto solo ad alta quota, ad esempio nel Cimagrappa, sarà un Natale con il sole, come ci conferma il nostro esperto Alessandro Marcon. Buonasera, dopo il debole peggioramento avuto nella giornata odierna, con delle piogge in pianura e qualche fiocco di neve sulle nostre prealpi, come possiamo ben vedere dalla webcam di Cimagrappa, da domani tornerà l'anticiclone. Questo anticiclone porterà il cielo sereno nella giornata di domani, Natale, mentre il giorno di Santo Stefano avremo cieli sereni con qualche innocua nube in tutti i nostri settori. Nella serata di martedì 27 e nella mattinata di mercoledì 28, qualche nebbia potrà coprire il nostro cielo in pianura, mentre sulle nostre prealpi sempre del cielo sereno. Il giorno 29 si potrebbe assistere ad un debolissimo peggioramento che potrebbe portare la neve sulle nostre prealpi, anche sull'altopiano di Asiago. Questo potrebbe garantire un po' di neve in tutto il comprensorio dell'altopiano di Asiago per il giorno di San Silvestro.